brutta sconfitta per la castellana che in casa contro la corazzata ospitaletto capitola sotto i colpi della vecchia conoscenza fai e pape pronti via bresciani già in vantaggio al nono con un tocco sottomisura di broli i goffredesi non ci stanno e reagiscono al ventesimo con salardi che sfrutta un errore difensivo ospite e trafigge micheletti ma la gioia dura ben poco al ventitraesimo inizia lo show di fai e pape che sfruttano il look di un compagno e semina difensori e portiere per l'uno a due nella ripresa ancora fai e pape triplica al cinquantaseiesimo sua azione da rimessa laterale l'attric definitivo per l'uno a quattro al novantaduesimo arriva con un delizioso lob a scavalcare lancini